luciano le stelle del caffè chantan allora diamo appunto questo appuntamento dal 6 marzo teatro roma si è il teatro dell'anfitrione uno spettacolone noi siamo la compagnia stabile del salone margherita di napoli e del gambrinus che trova in piazza del plebiscito ecco intanto stiamo vedendo la tua locandina vediamo proprio la locandina si e insomma parliamo del serato del salone margherita di napoli che è stato il primo locale di varietà italiano inaugurato nel 1890 è un genere che è ritornato in gran moda il varietà lo dice stesso la parola un contenitore dove all'interno ci troviamo un po di tutto comicità coreografie canzoni insomma tutto italiano internazionale ma soprattutto però canzoni partenope quindi un largo spazio anche perché poi sono quelle che piacciono sempre sì ne abbiamo avuto una riprova un po di giorni fa nel festival di sanremo il picco di ascolti l'ho avuto renzo arbore con le canzoni napoletane non tramontano male la musica partenopea però tu non sei da solo no io non sono da solo questa sera siamo venuti un po in rappresentanza con alcuni componenti della compagnia soprattutto con la nostra protagonista femminile che è una cantante straordinaria che ci dimostra che quando si fa il varietà bisogna saper fare un po di tutto quindi cantare dalla lirica alla musica leggera alla musica popolare senti da buon attore anche cantante napoletano se anche molto rigoroso so eh sì bisogna bisogna contrariamente a quello che si pensa di napoletani no io ho avuto modo di vedere molto severi c'è molta severità soprattutto quando si è a teatro poi tra l'altro tu sei anche il nipote del poeta che ha scritto sole mio ragazzi veramente la canzone più famosa per eccellenza internazionale giovanni giovanni capurro e il poeta che ha scritto sole mio e anche altre bellissime canzoni possiamo anche ben dire forse l'inno nazionale italiano nel mondo perché è conosciuta veramente dovunque assolutamente sì allora vogliamo chiamare anche una parte della tua compagnia per un estratto quindi un condensato di quello che poi accadrà a marzo a teatro perfetto chiamerei la nostra protagonista femminile che è Anna Caso bene arrivata buonasera buonasera a te le canzoni che prediligi tra tutte quelle che canti parte il genere napoletano e faccio il lirico quindi ha questa passione anche per la musica lirica io nasco con la musica lirica lei si salta molto nel genere dell'operetta perché noi faremo anche uno spaccato dedicato a questo genere che ormai è andato un po tramontato proprio proprio perché lo daremo in in medley insomma faremo dei ricordi con la sua voce straordinaria insomma allora man mano che chiami tutta la compagnia dal 6 marzo il 6 marzo saremo in scena poi con con attori comici quindi non è uno spettacolo solo musicale ci sarà lucio bastolla ci saranno emmanuella de martino franco nove il balletto delle delle belle epoche perfetto nel frattempo adesso noi iniziamo con un un omaggio alla grande canzone classica napoletana con una poesia era de maggio perfetto era da ma c'è te gare vansì a a schiocca 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 lì c'era sero fresca era l'aria e tutta luce ardì adorava de rosa a 100 fois era da ma c'è non non me nascosta una canzone canzava ma 2 Il tempo passa e più me l'allico, fresca dall'aria e la canzone a dusch e dici Cor, cor, cor mio lontano amare, tu me lasse ricorda l'ora, visse quando torna a raias Risponevi a mia, torna a raias, quando torna l'alli rosa Sì, stu c'era, torna a raias, pur a macchia stunga caz Sì, stu c'era, torna a raias, pur a macchia stunga caz Sì, stu c'era, torna a raias Sì, stu c'era, torna a raias, pur a macchia stunga caz Sì, stu c'era, torna a raias 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 Un per noi, tra quattro e cinque e s튼 e am Un per noi, tra quattro? Uhhh! Ha rittova avuta, aveva parlato PICHESI intra ragiona CHIC CHIVAT! a CHICIRA VAT N就是 Seth Acoba sinultrano, om mod Rocky non riesce è sempre grande che lo riesce è sempre grande che lo riesce se vuole il G.S. se ci vuole il G.S. se ci vuole il G.S. 4 anni non è stato ma chiudono il giorno chi lo fa cagliare il G.S. se vuole il G.S. se ci vuole il G.S. se ci vuole il G.S. tutto quanto cosa come tutti ci si doveva e poi ci ci vuole il G.S. mi ripetono il G.S. Lushi che è saputa la novità no non sace niente la moglieva è stata male sgravata l'ha fatto un in niri con il mio bravo signorine Gabriella fanno amore che i marrochini marrochini si può SIGARETTE MAMMA SIGARETTE MAMMA SIGARETTE MAMMA SIGARETTE MAMMA SIGARETTE MAMMA